La maggior parte di voi ha sentito parlare della scienza quantistica. Qualcuno ha sentito parlare di fisica quantistica? Ok, bene. Sappiamo che ci sono i computer quantici, l'intelligenza artificiale, la tecnologia evolve velocissimamente. La cosa importante da sapere è che la scienza quantistica non è nuova, è la scienza dell'energia. Quindi sostanzialmente nel nostro mondo occidentale siamo stati formati, educati da persone scientifiche nella realtà in 3D, dove vivono le leggi newtoniane, per esempio la gravità. Nella scienza quantistica è tutta una questione di energia. Secondo voi, che cosa è più facile influenzare? La materia? Qualcosa che si muove con vibrazioni o frequenze lente, oppure l'energia che vibra molto più rapidamente? Capite la differenza? È come riscaldare qualcosa sul fuoco. Se volete scaldare qualcosa, dovete usare frequenze elevate. Se guardiamo le emozioni, vediamo la paura e altre emozioni a livello basso di frequenza. L'amore è a un livello di frequenza elevato. Quindi se devo trattare qualcosa e lo faccio con la rabbia, con la frustrazione, con la paura, allora non guarisco di fatto. Capite? Peggioro la situazione. Se voglio guarire qualunque malattia, ricordatevi che la malattia sta nella realtà tridimensionale. Allora devo andare in una realtà più elevata, aumentare la mia energia lì e poi riportarla giù nella terza dimensione. E allora così posso accelerare la guarigione. La cosa più importante nell'ambito quantistico sono le frequenze. Dunque se vivo nella scarsità, supponiamo che io faccia fatica col denaro, con le finanze e sono frustrato, arrabbiato perché la vita è ingiusta. È vero o no? Io sono intelligente, non sono stupido, ma ci sono persone che non sono più intelligenti di me e guadagnano di più. Sono frustrato sì o no se vedo queste cose? Chiunque lo sarebbe. Ora, se volete creare abbondanza, partendo dalla frustrazione, innanzitutto, anche se riuscite a creare più denaro, proverete comunque frustrazione. Perché? Perché le frequenze che mandate all'esterno sono fatte di frustrazione, rabbia e paura. Capite? Dunque se voglio creare qualcosa che mi renda felice, devo innanzitutto aumentare le frequenze e portarle allo stato di felicità e poi creare. Quindi dobbiamo imparare la prima lezione. La prima lezione è non creare mai partendo dalla scarsità. Bisogna creare l'abbondanza da uno stato di abbondanza. Vi insegneremo alcune di queste leggi della quantistica. La cosa importante da capire quando parliamo di intenzione è capire come funziona il sistema quantistico. Alcune delle regole non riusciamo veramente a capirle con la mente, quindi le spiegherò molto brevemente. Una delle cose che non capiamo è che tutto ciò che abbiamo mai voluto nella nostra vita esiste già. Cosa difficile da capire, però è una legge. Tutto ciò che potremmo mai desiderare esiste già. Qualunque cosa che noi possiamo mai desiderare o volere esiste già. Ora, il problema è che non sono connesso a quella cosa che desidero. Dove esiste nel campo? Beh, la prima cosa da capire è che nella quarta dimensione abbiamo il dolore, la sofferenza, il karma. Tutto questo è nella quarta dimensione. Il tempo lì è congelato. Non cambia finché noi non lo cambiamo. Quindi nella quarta dimensione dobbiamo fare la maggior parte del lavoro. Faremo un processo che ci porterà molto in profondità nel bruciare il karma. Il karma, altro non è che tutte le energie pesanti bloccate in una zona senza tempo della quarta dimensione. Nella quinta dimensione esiste tutto. Tutto è già stato creato. Quello che dobbiamo imparare è come connetterci, come connettere i desideri del nostro cuore con ciò che già esiste. Per fare questo bisogna capire un principio molto semplice, ovvero il modo in cui funziona è definito come linea del tempo parallele. La vita che stiamo vivendo ora ha un numero infinito di varianti, proprio ora. Quindi in una vita io posso essere felice, in un'altra linea del tempo sono infelice, in una vita sono ricco, in un'altra vita sono povero. Per qualche motivo però che solo Dio può spiegare, tutto accade nella quinta dimensione in linea del tempo parallele. Dunque quando diciamo anche se non so come, non facciamo altro che uscire dall'emisfero cerebrale sinistro perché lui vuole sapere come. Il cervello sinistro deve sapere come. Invece l'emisfero cerebrale destro è quello che è collegato al campo quantico. Lo chiamiamo cervello creativo. È il cervello però wireless. Il cervello wireless, l'emisfero destro dove abbiamo l'intuito, quell'emisfero riceve informazioni che non vengono dalla terza dimensione. L'intuito non è della terza dimensione, proviene dal campo. Allora come fate a sapere che questa persona che incontrate non è la persona giusta con cui fare affari? Beh, perché c'è una linea del tempo in cui di fatto fate affari con questa persona e le cose vanno malissimo. E in un qualche modo percepite questa cosa e per questo motivo l'intuito vi dirà no, questo non è giusto partner per fare affari o per lavorare insieme. Vediamo il tutto un po' più pratico per tutti voi. Se andate a cercare una casa nuova, ad esempio, la maggior parte di voi già ha un'idea di come dovrebbe essere questa casa, che aspetto ha. Avete tutto nella mente. Come ha fatto ad arrivarvi alla mente questa immagine? Perché avete avuto accesso a un'altra linea del tempo dove già vivevate in quella casa. Quindi prendete queste immagini visive, andate a cercare la casa nella terza dimensione e filtrerete attraverso ciò che già sapete. E direte prima casa no, seconda casa no. Magari alla dodicesima casa entrerete immediatamente e direte è lei. Come fate a saperlo? Perché siete stati legati a un futuro in cui avete vissuto in quella casa. Capite? Più riusciamo a essere maestri nell'andare ad attingere a linee del tempo parallele e più sappiamo come influenzare le nostre energie e più rapidamente manifesteremo ciò che desideriamo. La prima cosa da fare, anche se non so come, quindi bypasso il cervello sinistro della terza dimensione ed entro nel cervello della quinta dimensione che è l'emisfero destro. Quando diciamo cancello, 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 e ve lo devo insegnare questo, quando dite cancello, un comando, non dite per favore puoi cancellare questa stupidata? Non lo dite così al computer, no? Quando usate il computer schiacciate il tasto cancella, cancella, cancella. Esatto, dobbiamo avere quella stessa certezza. Quando dite cancello, ciò che volete cancellare viene cancellato. Avete bisogno di farlo con forza. E' un comando, è un vostro comando, non è una richiesta, è un comando. Capite la differenza? Quando dite ricevo, 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 questa è la parte più divertente che vi insegneremo. Quando dite ricevo, 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 andate ad attingere a un universo parallelo dove già avete tutte le risorse che desiderate avere. Se voglio scrivere un libro, ho scritto tanti libri, immaginiamo che io voglia scrivere il mio primo libro. Posso far fatica e imparare a scrivere e studiare di tutto, oppure posso connettermi a un'altra linea del tempo dove ho già scritto un libro. E non solo un libro, ma un best seller. Non vorreste fare così? Ecco perché diciamo ricevo, ricevo, ricevo dentro di me tutte le risorse affinché io possa scrivere il libro migliore ora. Se riusciamo a imparare tutto questo siamo connessi al campo, al campo quantico. E allora la nostra intenzione diventa più potente e continuiamo a cancellare a quel punto i programmi che non sono al nostro servizio. Quindi anche solo definire l'intenzione e farlo potete praticare tante cose. Innanzitutto dovete far pratica di non fidarvi del vostro cervello sinistro. Non avete bisogno di sapere come. Se dovessi pensare, se avessi pensato come avrei potuto incontrare la donna della mia vita, Joy, avrei elaborato un sacco di piani magari strani. Beh no, non l'avresti elaborato proprio un piano. Ma che dici? Beh, il mio cervello non ce l'avrebbe fatto. Sarei ancora lì a cercare in tutto il pianeta. Non avrei trovato Joy. Quindi deve accadere nell'ambito di una coincidenza, capite? Tante cose nella nostra vita non le abbiamo perché ci pensiamo. E magari poi accadono per quella che chiamiamo sincronicità, vero o no? Io non posso creare le sincronicità. Sincronicità sono cose fatte da un'altra intelligenza e c'è un'altra intelligenza che lavora per creare proprio queste sincronicità. Quell'intelligenza è ciò che ci ha messo insieme alla fine. Tutti noi siamo connessi a quell'intelligenza. L'unica cosa è che non sempre sappiamo che c'è quell'intelligenza e che lei va a fare tante cose. Ho avuto tante grandi idee. Pensavo che fossero idee mie. Invece no, non sono idee mie. Sono nel campo. E più riusciamo ad attingere il campo e più siamo guidati dal campo affinché possiamo essere esattamente dove dobbiamo essere nel momento giusto affinché si apre una porta per noi o per incontrare una persona o per avere una nuova intuizione o una nuova informazione. Ogni mattina quando farete l'intenzione farete pratica di tutto questo. Cancellerete roba, riceverete roba, vi connetterete alla linea del tempo dei vostri desideri. Dovete prendere tutto questo seriamente perché è semplice, è potente e non vi richiede altro che pochi minuti di dedizione. Non vi insegniamo a meditare per un'ora o quant'altro. No, vi insegniamo a influenzare il campo energetico per creare le cose che desiderate, cose che volete attrarre a voi. E quando diventerete bravi a farlo creerete cose che ancora non immaginate siano possibili. Ho abbandonato dei sogni perché pensavo di non poterli realizzare. Fino a quando non ho imparato le regole del campo quantico allora questi sogni diventano sempre più reali. Passo dopo passo, ogni giorno di più. L'unica cosa che devo controllare o di cui devo diventare maestro è non guardare l'orologio ogni dieci secondi per vedere se il miracolo è accaduto. Questo è il punto. Noi non controlliamo il tempo. Dobbiamo rilassarci nel tempo e fidarci del fatto che il nostro messaggio viene udito. Fidandoci del fatto che l'intelligenza superiore sa ciò che noi vogliamo. Fidandoci del fatto che la nostra 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 Grazie a tutti.